ciao bella a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video oggi sono su una ruota di brawl stars si perché visto che molti youtuber hanno fatto la sfida della ruota che poi io giocherò con quel brawler allora tanto che ci sono la faccio anch'io ho messo tutti i miei brawler con colori sparsi che ha deciso il gioco e incominciamo a girare la ruota della fortuna di brawl stars e uscirà metto il muto no beryl no nita nita raga bene bene nita nita mi piace nita mi piace moltissimo allora ok quindi ora come vedete mi sto facendo mi sto tenendo i bauli perché farò una live dove aprirò 50 bauli quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi il video perché non so bene quando la farò ora giocheremo con la nostra preferita nita anche se un po paura di perdere coppe però noi la dobbiamo usare in roba assalto perché oggi giocheremo questa modalità e andiamo vediamo cosa riusciamo a fare abbiamo un leon in squadra sono tutti e due fermi no min cavolo ho sprecato un colpo ma va bene comunque ragazzi se io nel video troverò la stau l'abilità stellare di nita sarò contentissimo perché il roba assalto praticamente invincibile perché te curi il boss mentre spari lui ti cura te mentre spari mentre spara è invincibile si è la parola giusta ora sentirete il mio fratello che sta parlando a fare i suoi anche se non vuole essere sentito nel video io gli ho letto di non urlare che devo registrare però se non mi ascolta mi deve ascoltare lo stiamo difendendo benissimo quella ascella è un po' stupida perché non si riesce a difendere da sola devo per forza intervenire io e il mio fratello urla lo sapevo che urlava io ho registrato un video con sul telefono che forse pubblicherò visto che c'era un po' di casino aspettate un attimo ok ho messo un attimo una pausa al video per di per io urlato addosso di non urlare soprattutto parolacce perché si sarà sentita una parolaccia perché se no vado giù e gli spengo la ps4 chi è che spara qua non provate a uccidermi e la raga raggo spero che non vi lagga anche il video perché io sto laggando no ovviamente noi nel gesto opening punteremo non a trovare brawler ma a trovare la l'abilità stellare è l'unico nostro quello che voglio trovare è solo quella oppure anche spike perché mi manca io ho solo leon che ho trovato in una cassa normale se vi siete persi il video andatevelo a vedere perché è stato veramente eccitante ora i miei compagni stanno difendendo no questo robottone che ci deve rompere mi ha dato filo da tor non posso farci niente eee no 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 non ci posso fare niente compagni difendete però un pochino eee noobs compagni noob compagni noob scarsi devo arrivare io per difendere mi sapevo di si i miei compagni sono dei naboni i miei compagni tre minuti e quaranta già metto la fiamma aia devo portarmelo via gli faccio fare il gioco gioco tondo lo uccido raga ok uccidiamo anche questo questo pure ottima difesa ci hanno un po' sfondato il muro eh però chi se ne frega l'importante è che siamo riusciti a difendere eee ma va col paese ma vattene al tuo paese a sparare ecco ci hanno uccisi il nostro compagno è strascarsissimo quindi abbiamo perso cosa gli ho detto vabbè abbiamo vinto quanti gettoni con la prima 24 buono ora andiamo di nuovo a girare la nostra ruota e vediamo cosa ci esce raga condividete il video eh perchè noi a 50 iscritti faremo una live quindi muovetevi condividete i miei video penny andiamo a prendere penny poi faremo solo un'altra partita perchè se no questo video dura l'infinità eccola qua la mia penny e andiamo a giocare scrivete che tipo di video vi piacciono nei commenti e quello con più mi piace io lo farò se è lungo o corto più live meno più video quello che volete voi e io lo accontentero però i video li continuano a fare lo stesso la tipologia io intendo di video tipo corti o lunghi non so decidete voi perchè alcuni nei commenti mi hanno scritto che sono noiosi quelli lunghi quindi non so devo fare quelli corti voglio che tutti fanno un sondaggio qua sotto nei commenti perchè io lo devo assolutamente sapere e più il mio canale crescerà più io video farò perchè io faccio video ne farò di più e anche tanti solo solo se il nostro il mio canale diventerà più grande perchè se no non ne faccio tanti è inutile aia ok piazza un bel mortaio lì in mezzo giusta facendo il terremoto ok raga è arrivata mia madre io dovevo dire che stavo registrando perchè lei non lo sapeva sta succedendo un casino mi sto confondendo con amazon cioè con mobizen che con lo sparo mi hanno distrutto il mio mortaio mi hanno ripiatto subito subito un altro nooo nooo ma come ti sei per rumesso brutto schifo va compagno dai qui torniamo lì più abbiamo i compagni più forti se mi capitava leon io potevo potevamo vinti tipo quattordecimila minuti difendi difendete cosa spara la cavolo brutto schifoso di quante benedizioni 17 compagni forti devo ritirare quella parola andiamo ultima girata della ruota fortunata se non sfortunata però non mi è capitato tutto un po bene per questa modalità ora speriamo leon fammi uscire leon quindi mi posso ben divertire dov'è leon no ancora penny no io non lo faccio ancora penny penny eh no devo cambiare assolutamente dov'è leon vaga arancione voglio l'arancione colt sarà l'ultimo brawler di oggi ah raga prima di fare l'ultima sfida lasciate tantissimi like così io capirò se questo tipo di video con la ruota vi piace e la continuerò a fare quindi lasciate like così io capirò diciamogli di fare il team perchè sennò sta qua fa la nabba ok arriva subito uno raga c'è andata bene oggi eh non mi è uscito leon però è andato bene dai se non mi è uscito leon potete farvi vedere come si uccide la gente come funziona che è una cosa di veramente OP io sono sdraiato qui sul mio letto però per voi devo registrare perchè almeno un video a settimana io lo pubblico quindi restate sempre connessi nel mio canale youtube perchè un video a settimana lo porto sempre mi registro sempre di sabato a volte anche di domenica però tipo oggi è sabato diciotto e nove comunque se qualcuno di voi mi vuole trovare io andrò a cattolica non so dove in un hotel e se voi mi incontrate sapete io chi sono come sono perchè ho fatto video con la webcam venite mi dicete chi siete io vi saluterò in un video forse lo farò con voi boh solo se volete ovviamente l'abbiamo spaccato di colpi sto boss non ti mettere più contro il nostro team sparatore aiutiamo il nostro compagno anche la cassa forte proteggiamo i nostri soldi ah comunque il video in cui ho trovato leon lo per fare un titolo facile l'ho chiamato ho trovato leon quindi scrivete subito ho trovato leon e andatevi a vedere quel video probabilmente prima finite di vedere questo video li stiamo massacrando eh ho chiesto qua eh brutto schifo compagno aiutatemi non posso difendere da solo siete nabbi compagni fai qualcosa a me non uccidilo non morire vabbè dai sono riuscito a difendere comunque anche cose buone in questa modalità ora io registrerò subito un altro video dopo questo perchè mi sta veramente piacendo giocare con i brawler capitati dalla ruota quindi oggi farò tantissimi video per tutte le settimane per tutta la settimana io faccio le live non solo per giocare con cioè non per le donazioni perchè a me non me ne spiega leggermente ma lo faccio solo per così possiamo giocare insieme e potete e io creerò un club secondo così possiamo giocare insieme questa ulti del nostro compagno mi è veramente piaciuta questo team è il migliore per adesso eh cioè è il migliore in questo video perchè veramente c'è oh siamo riusciti più degli altri ovviamente io con leon sono riuscito ad arrivare fino a 5 minuti e 40 ora vi vado a vedere il mio record questo video cioè questa partita ha superato tutto mi sto tenendo mi sto tenendo anche mi sto tenendo anche e ci vediamo ai prossimi video restate sempre attivi nei miei video che vi faranno divertire e quando il mio canale diventerà più alto io farò molti più live per giocare con voi ragazzi ci vediamo alla prossima ciao